A giorni esce il bando per la gestione del circolo tennis ma ci sono altri bandi da mettere in conseguenza, il Palas Capriano e altri impianti sportivi? Sì, ci sono tanti impianti che sono in attesa di un gestore, ci siamo presi un po' di tempo, non per quanto riguarda il circolo tennis che comunque avrà un affidamento sicuramente a lungo termine, per quanto riguarda invece il Palas Capriano ci siamo presi un po' più di tempo perché è importante rendere appetibile quell'impianto affinché questo bando non vada al deserto. Quando potrà vedere la luce? Sicuramente appena completato quello del circolo tennis l'ufficio tecnico lavorerà a quello del Palas Capriano, lì ci sarà una, sicuramente prevederemo, è nostra intenzione prevedere, ma insomma abbiamo già inserito le risorse nei capitori di bilancio, una compartecipazione alle spese di gestione di quell'impianto, compartecipazione a scalare che permetterà al gestore di investire su quell'impianto, avere un ammodernamento dell'impianto stesso soprattutto per quanto riguarda le spese termiche dell'impianto che in questo momento le ultime cifre che abbiamo per l'ultimo anno sono di 200.000 euro di spese energetiche. Quest'anno sicuramente abbiamo avuto un calo con la gestione interna del Comune di queste spese, ma questo non significa che quell'impianto sia efficiente, quindi avere una compartecipazione da parte del Comune permette al soggetto di investire, ridurre drasticamente le spese energetiche, soprattutto è nostra intenzione spingere attraverso questo banto affinché questo impianto possa diventare anche un impianto polifunzionale che possa sfidare anche dei concerti di livello, quindi anche che prevedano un'insonializzazione. Ecco, polifunzionale quindi non solo basket, ma potremmo vedere anche la palla a volo, il trisport, ma non la palla a mano. Allora, sulla palla a mano c'è un problema di dimensioni, l'ultima tribuna che fu costruita per la serie A di basket non permette alla palla a mano di giocare proprio per una questione di dimensioni, lì c'è un piano della sicurezza, una CPI che si regge attualmente appunto su quella tribuna, andare a eliminare quella tribuna significerebbe rifare tutto il piano della sicurezza e in questo momento veramente su quell'impianto sarebbe una follia. È chiaro che per la palla a mano dobbiamo trovare delle soluzioni alternative, ci sono delle idee che stiamo approfondendo perché ci sono altri impianti, a Teramo Centro parliamo, che possono essere rimodernati, che possono essere funzionali alla palla a mano. C'è un lavoro molto interessante che si potrebbe fare sul ricopro della pista di pattinaggio, dove all'interno c'è un campo che ha le dimensioni sufficienti per la palla a mano, naturalmente si parla di un campo che andrebbe coperto, andrebbe anche sistemato perché comunque il pavimento non è in questo momento adatto e bisognerebbe trovare una soluzione per gli spogliatoi, però ci sono dei soggetti anche lì interessati. Per la pista di pattinaggio? Sì, per la pista di pattinaggio, ma è chiaro che quello sarebbe un impianto polifunzionale a tutti gli effetti. Abbiamo una grossa richiesta da parte delle società sportive, non riusciamo con i nostri impianti a soddisfare tutta la domanda, questo significa che potremmo in maniera efficiente anche ampliare la nostra offerta di impiantistica per cercare di dare una risposta a tutte quelle associazioni che comunque fanno sport sul territorio.